oggi siamo tornati su minecraft talmente tanto è passato che guarda quasi non mi ricordo neanche più come si gioca sono rientrata nella nostra vanilla si era questo no ecco la mia bellissima vanilla quella dove c'eravamo lasciate si però aspetta che vuole sto mostro zombie lontano non ho neanche una spada quindi immagino ma è un baby non è un zombie è un baby zombie insieme a papà zombie baby maledetto tornati mi ammazzo tutti e due padre figlio ok ragazzi come le ho persi l'ho dovrei sistemare la faccenda della notte perché sennò voi non vedete niente poi dopo se ecco allora ragazzi allora io consiglierò di continuare la nostra villa povero sciagurato il nostro amico sciagurato molto perché lo sto per uccidere ma è scappato complimenti a voi no no vabbè no 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 muori 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 oh che cavolo il cuore ma chi mi ha sempre mi ha fatto inizia perché continuate di distruggermi ho solo un'armiatura di coio sotto ciò in carciola skin di marvello spider e mys morales ora faremmo una serie è niente ci siamo trovati su minecraft cosa si fa su minecraft? niente si prende il legname e si sta zitti e cosa si fa su minecraft? la tua vita da sopravvivenza raga ma non era questo? no si questo era un attimo si ragazzi era questa ho controllato i mondi ed è questa la vanilla perchè mi sto conspettendo perchè c'è scritto vanilla però secondo me ne ho tipo brunia di vanilla si comunque è questa l'altra volta non c'è un crafting table guarda che non ce l'avevo nulla ok allora non ricordo il video che ho fatto iscrivetevi o non attivate la campanina non mi perdete tipo il video che non ha senso iscrizione se non attivate la campanina e lasciate like oppure un commento quanto altro devo dire per favore fatelo non come sempre con ogni video lo dico non lo fate per favore fatelo soprattutto le iscrizioni però soprattutto le iscrizioni per favore di 10 iscritti please please minecraft è un gioco bellissimo allora non posso neanche cantare la mia canzone preferita perchè sennò mi danno il copyright questo magari la scambiano perchè nooo mi si è rotto ecco ecco non c'è non c'è porta via tutto il legname per poi costruire una crafting table che si mette che si mette ma che noia serve un altro perchè me ne ho dimenticato che minecraft non ci gioco da tanto tempo me ne ho dimenticato che minecraft fosse così odioso certe volte me l'ero proprio dimenticato che per una cosa non ti puoi costruire niente tanto non mi penso di dare i miei copietti per questa canzone tanto non mi penso di dare i miei copietti per questa canzone perchè la canto io e non la sto mettendo basta quando ci sono i bastoncini andiamo a tagliare la ecco di solito qua si trovano i bastoni ooo mi sa che l'ho trovato no solo ramoscelli schifosi ecco che l'ho trovato solo ramoscelli schifosi e non so quando vedete questo video ma in realtà qua sono le 21 e 24 di sera quando lo vedrete questo video scrivetelo nei commenti alle 7 del mattino spero di no perchè alle 7 del mattino si dorme o si sta svegli si deve andare a lavorare vabbè dai no vabbè io devo pure svegliare ahhhh ahhhh raga troppo corto sto video non so che fare ne devo fare un altro sto lavorando come un pazzo per fare questi video bla 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 ahhhh vai ma c'è una nutella dentro questi alberi non lo so perchè è utile se c'è una nutella dentro questi alberi nutella no il sole no sole non deve andare sole 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 no non deve andare sole 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 Soooooolee! il sole sei cantato! mi ho abbandonato! lascio risare joooole! dove sei? dove sei? solo ti vengo a prendere solo luna! ciao luna! Quanto ossigeno qua? Che cavolo c'è? Quanto ossigeno? Guardate, guardate, guardate C'è un tesoro qua sotto Guarda c'è ossigeno, no Respira questo Risali, risali, risali Risali, risali Risali, risali Ossigeno c'è, no? C'è la scorta di ossigeno Oh che bello Potrei stare qua a vita Non respira più Potrei stare qua È vero Perché se ti strui questo schifo Tu dici, finisce? No Non finisce Lo ossigeno È una riserva naturale di ossigeno È una riserva naturale di ossigeno È una riserva naturale di ossigeno Ragazzi Dobbiamo spaventare il mare Dobbiamo andare nella superficie Sperficie È una riserva naturale di ossigeno È una riserva naturale di ossigeno Vaffanbro Ragazzi, questo video finisce qua Ciao e alla prossima ragazzi Iscriviti assolutamente Se non vi iscrivete vi vengo a ammazzare la notte Venge dormite Prova vengo a strangolare Iscriviti al canale Scherzo Non mi vengo a stacco la maschera al canale Non stacco il video fino a quando non mi iscrivete al canale Tu, iscriviti 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 O mio gatto ti mangia i compiti Iscriviti Dai, premi col tasto e iscriviti Dai, 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 premi col tasto e iscriviti Iscriviti, ho detto E pensi che me ne vado Ok Iscriviti Lo dico, durerà due ore questo video Solo perché tu non ti sei iscritto Iscriviti No, no, tu adesso che stai guardando questo video Iscriviti Ah, non so che lo aprirai soltanto anche vedendolo, dai, dai, dai Tu credi cosa c'è? Io non lavoro, eh Eh, eh, cosa faccio io qua? Eh, eh, un montaggio di vita non ce l'ho Eh, eh, scherzo Ragazzi, ciao, ciao alla prossima Però iscriviti Iscriviti o il mio gatto ti mangia i piedi stanotte Amico Ti veniamo a prendere Grazie 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 Grazie